210 anni dalla fondazione dell'arma dei Carabinieri, anche l'Aquila celebra questo importante anniversario tracciando come sempre un bilancio delle attività svolte, un'arma sempre più vicina al cittadino e alle sue esigenze e questa mattina un bellissimo villaggio per i bambini su ambiente e legalità. Viviamo in una provincia che purtroppo risente come tutto il territorio nazionale di una delettosità, di un andamento di delettosità che ovviamente è in leggero aumento, per fortuna non come i livelli pre-pandemici. Però, almeno qui in provincia, riusciamo a reagire e a annullare questo numero crescente di delitti con un'azione di contrasto importante. Abbiamo quasi il triplo dei delitti scoperti, in particolare dei furti in abitazione. Abbiamo il 300% di reati e di persone denunciate in più, abbiamo quasi il 103% in più degli arresti. e questo ovviamente non ci fa fermare, ma ci sprona a continuare su questa strada.